Nelle piazze ha scoperto un'Italia fantastica e la Puglia non fa eccezione. Arturo Brachetti, che mercoledì sera sarà a Villa Peripatto di Taranto per lo spettacolo Pierino, Il Lupo e l'altro, lancia da piazza Giovanni XXIII di Francavilla Fontana una lettera d'amore indirizzata al teatro e all'arte, al sud e al suo pubblico. Per me è molto strano fare gli spettacoli estivi nelle piazze, è ancora più strano in un clima così subtropicale come l'Italia quest'anno, però ho scoperto un'Italia fantastica in giro per quelle piazze sconosciute dove non veniamo mai d'inverno, tipo questa Francavilla con questi pavimenti straordinari di piazze dove ci manca solo la cera per terra. Certo, il teatro funziona dappertutto, amici, basta che ci lasci non dare, ecco. Restano i dubbi sulla bontà di organizzare spettacoli a pagamento in una piazza blindata, letteralmente l'assessore della cultura Maria Angelotti difende la strategia. Te la penso esattamente come Brachetti, il teatro funziona e dovrebbe funzionare ovunque, quindi anche nelle piazze in forma estiva all'aperto, come succede un po' per gli spettacoli, ma come succede anche per gli spettacoli di Etrali in tutta Italia. È un esperimento, sicuramente alcune cose vanno riviste, ma è una cosa in cui credo tantissimo e che rivendi, o viva il teatro, o viva lo spettacolo, o viva l'arte in generale.